Domenica 24 ottobre in contemporanea con altre città italiane anche Pescara e Chieti parteciperanno alla campagna Io non rischio. Oltre al punto informativo i cittadini troveranno infatti dei gazebo dove informarsi sulle buone pratiche di protezione civile. Volontarie e volontari saranno presenti negli spazi informativi di Io non rischio realizzati online nei gazebo allestiti su gran parte del territorio nazionale e dunque anche nei due capoluoghi per diffondere la cultura della prevenzione e sensibilizzare i cittadini sul rischio sismico e sul rischio maremoto. È una campagna nazionale dove Pescara aderisce anche quest'anno. Lo scorso anno c'è stato un break perché a causa pandemia non si è svolta. Quest'anno riprendiamo da dove avevamo lasciato e abbiamo avuto esperienza e me diciamo della cultura della prevenzione deve esserci sempre perché ovviamente il rischio di gestione emergenziale è sempre etolangolo sia essa sanitaria o di qualsiasi altra natura. Pertanto le associazioni di protezione civile insieme alla Croce Rossa italiana e anche i vigili urbani saranno presenti a Piazza Trotto per incontrare la cittadinanza e per dare anche risposte su quelle che sono delle curiosità, acquisiti e quant'altro per far germogliare questa cultura importante della prevenzione sulla città di Pescara in un ambito nazionale ovviamente. Come associazione ed insieme ad altre associazioni stiamo a rappresentare Io non rischio. È una manifestazione dove abbiamo aderito e ritengo che sia molto utile per la città, per i cittadini dove magari verrà spiegato un po' degli accorgimenti che in caso di alluvione, in caso di altre calamità magari uno può prevenire e prevenire delle conseguenze più gravi. Noi abbiamo dimostrato in questi ultimi mesi come abbiamo dato uno scatto importante all'attività della protezione civile di Chieti sia in termini preventivi che in termini di azione nel momento in cui speriamo di no ci potrebbero essere delle necessità in cui impegnare tutti i volontari e le associazioni della protezione civile. Questo è il 24 è un meccanismo per iniziare a inculcare alla popolazione il senso proprio della protezione, della reazione che può essere sicuramente gestita e accompagnata dalla protezione civile che ha un ruolo fondamentale nelle azioni di soluzione di problematiche importanti, quale può essere un disastro ambientale o un disastro naturale. Certo è che la popolazione deve fare il suo ruolo. Portare a conoscenza della popolazione quali sono i rischi sismici, i rischi alluvioni, maremove. Questo è quello che il Dipartimento di protezione civile ogni anno fa per incontro alla popolazione. Noi saremo in piazza a Chieti durante il 24 dalle 9 alle 19 per questa campagna.